Musica Chioggia Google Map Alla faccia della privacy Il signore ci sta riprendendo E non ci frega proprio niente Ecco qui Anche il canale Ecco qui un valido elemento dell'amministrazione comunale Cosa dice di questa situazione lei? Cosa dice? Cosa dice qualcosa? Le persone non vengono riprese Le persone non vengono riprese Perché un bel ragazzo come lei non la riprendono? Scusi, non è mica giusto eh Perché non riprende le persone Questa telecamera scusi? La legge sulla privacy Ancora persone che guardano la legge sulla privacy Cosa sbagliatissima Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti